Alla presenza di un folto pubblico di genitori e amici venuti ad assisterli e a sostenerli, gli atleti della CSK si sono misurati nelle prove d'esame previste nelle diverse forme, ottenendo tutti i punteggi di gran lunga superiore al minimo necessario al superamento dell'esame. Che dire una grande famiglia che non guarda solo al presente, ma con obiettivi sul medio e lungo termine. Gli allievi esaminati dal maestro Ursino erano per la cintura marrone e nera Antonio Gurneri, Mattia Gulloni, Daniele Emanuele Urzino e Giuseppe Bizantini. Conquista la cintura marrone Pietro Sgambelluri, mentre la blu perva Francesco Cerabolo. Promossa cintura verde Simone Squillaci e Andrea Parrelli. E infine conquistano con grande merito la cintura gialla gli atleti Martina Pelle, Salvatore Iannizi, Domenico Albanese, Salvatore Catalano, Sofia Della Monica, Domenico Reale, Francesco Verteramo, Alessandro Valenti, Lorenzo e Pietro Sgambelluri. Cintura bianco-gialla per il giovanissimo Antonio Galluzzo. Applauso di pubblico per Domenico Macri che ha conquistato la cintura nera. Tutto rinviato al Campus Karate Beach che si darà nel mese di luglio sulla spiaggia dove il team agonistico inizierà la preparazione per il prossimo campionato del mondo di arti marziali che si disputerà nella bellissima isola di Malta.